Oh eccoci qua ragazzi tutto bene come va? Allora situazione abbiamo sconfitto Batman Combattimento che non mi è piaciuto per niente però vabbè che dire di più Niente andiamo avanti e faccio del nostro meglio per Per finire sta cacchia di gioco ok Ho messo la batteria del c... ho messo a caricare sto coso Sì ok Oh megalomani cosa vuoi fare? L'atletica leggera non ti aiuterà contro Breniak Ma sei buggato lo... Sono inevitabili la giustizia li troverà alla fine È da un po' che rimandiamo l'inevitabile ormai Sai non mi sento nemmeno più il bersaglio sulla schiena E comunque il sistema giudiziario è compromesso Per avere giustizia c'è bisogno di un governo mediato da una maggioranza morale E diglielo squalo Passami l'umano Harley Breniak non può essere fermato Non avete fatto nulla per evitare la sconfitta di questa terra Ah e dai abbiamo ucciso un botto di alieni Per non parlare della tua Justice League alienata Sono la marea inarrestabile Breniak e il suo esercito non sono la marea Sì sono più una piscina gonfiabile Al massimo ti ci puoi raggrizzire E poi finisce che si buca e te la dimentichi in cantina Ehm... esempio simpatico però no Ah 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 il fatto di una piscina gonfiabile mi mancava Nerina dai non è il momento Si la mia gatta piange C'è un problema con... E' un bug E' un bug Devo far caricare la partita Dimmi tu King Shark Lo prendo io, Harley Ah, hai capito come funziona? Comunque il... Comunque il drone ha un problema Ah, ecco, ora si è stabilizzato Passa a fare Finalmente il drone si è stabilizzato Oh, finalmente si è stabilizzato Oh, ora vediamo Parla per te, Batman Guarda Luthor Il pipistrello Lasciatelo sulla stazione medica Piano, piano Mi serve un attack prima di poter procedere con degli esami più invasivi E adesso si comincia Credo che vuole che voi vengano andiate È tutto Hai praticamente già perso Luthor Io sono la vendetta Oh, io sono la vendetta Oh, io sono la vendetta Oh, voglio dargli un nome e tenergli un posto sotto il cosino Figo E una vetrighetta Oh, quest'arma mi capisce davvero Ok Ok Alex servirà del tempo E noi dobbiamo prepararci a Superman Potremmo dover affrontare molte missioni Argus Cosa dovremmo dire a Waller? Bello, se non lo sa Non le verrà la tentazione di friggerci Waller Novità Niente Batman Era una trappola Cercate Sto lavorando al piano B Passo e chiudo Visto? A posto Avevo risolto Bene Ora divertiamoci un po' Potremmo sì riandare qui Però prima di riandare Vediamo se ci sta qualche missione secondaria Infatti qualche missione c'è Dai, dai, dai Ci facciamo che bella missioncina Che secondo me è la cosa migliore da fare Ah, ma ci sta uno Uh, ma c'è uno là Ah, mi cambia pure la skin No, in realtà mi serve lo squalo Lo squalo, lo squalo Non capisco Se Superman è alieno Perché è così bello? Che importa? Importa come, cazzo Io sono un semplice umano E sai perché nessuno mi mette like su Dropper? Perché quel coglione svolazza in giro Con la sua mascella quadrata del cazzo? Il rancore non è sexy, Boomer Volare, Vico Lol Mi è piaciuta sta cosa Mi è piaciuta A parte Tromber Ho capito a cosa era riferito Vabbè, sì, sì Non so se sei all'ascolto Spero proprio di sì Qualunque cosa abbia fatto Brainiac per traviarti Qualunque forza ti abbia messo contro di noi E qualunque impulso abbia scatenato questa distruzione Vorrei solo che ti prendessi un momento E guardassi dentro di te Questo non sei tu Combatti Devi tornare in te Per anni sei stato il più grande guardiano di Metropolis E un amico per tutti i cittadini Lois Sei parlato di te stessa Sei stato un paro di coraggio e forza Un modello a cui aspirare per tutti E' l'uomo più compassionevole ed empatico che abbia mai conosciuto nella mia vita Yep Figo E adesso? Ehm E' un bug? Si è bloccato? Vabbè, eh, vabbè Bene, andiamo Suppongo che attraversare dei cerchi richieda una certa dose di agilità Ah, ok sicuramente l'enigmista la prenderà con sportività e umiltà ti odierà a morte abbiamo poi boomerang di livello la frase sottovoce sono carico di adrenalina potrei salvare un fottuto coccodrillo ora è buggata la faccia di cosa comunque non vorrei dire ok dove stai? scusami ah no non mi interessa questo era questo che volevo segnalare vi piacciono le granate? certo che vi piacciono le adorate non avete voglia di disintegrare la città con modalità vi piacciono le granate? certo che vi piacciono le adorate non avete voglia di disintegrare la città con modalità nuova ed esaltante non userò giri di parole distraete faccia da teschio mentre io e il colonnello gestiamo la parte facile volevi dire la seconda frase sottovoce? sono carico di adrenalina potrei salvare un fottuto coccodrillo ora ecco il disturbatore vedo delle esplosioni nel mio futuro sento il sapore ok ho portato qualche idea su come riutilizzare i terminati incontri ah quei potenziamenti ok madonna che cattiveria l'ha detto in un tono cattivo questo è un test sul campo per migliorare le granate di Cobblepot vi copro le spalle esattamente mi suona come un accordo di tutto rispetto potremmo quasi seppellire la scia di guerra no ti prego l'ha detto non è che le vida non le sento nemmeno ma le sento però ci siamo divertiti a far saltare in aria Gotham non mi lo arriva di dire ma e ne fatti le città e mi fanno male ed Edson tu in effetti staremo qui non soggiorno sfrigatevi e mettete i mappi di abbe lo spettacolo spazzino di negra sono viste tutti calotto per l'amore per esempio si siete curati razza di idioti continuate con i monti parli sono a disagio tutto rose fio non dovete fare altro che ammazzare dei maledetti alieni ora si va in fanno oh se non basta cosa pensavi di fare sabotando la parata era una metafora no scompiare i palloni lavorassi con Brainiac vorrei parlare con le risorse umane oh l'amore vince sempre beh più o meno bello e ogni tanto e ogni tanto sa scombatter lui è una metafora non c'è una metafora che è un'altra metafora in sfruttura è un'altra metafora Siamo al sicuro. Siamo al sicuro. Siamo al sicuro. No, e ho fallito. Perché c'era la scadenza e non l'avevo visto laterale. L'ho notato dopo che stava scadendo. Perché non mi è uscito di avanti, mi è uscito di lato. Ah, ho sbagliato. Dai, avevo fatto così una buona partita. Dai, che avevo fatto una bella partita. E' amato... Era così bene, era andato. Questo è un test sul campo per migliorare le granate di Cobblepot. Ricopro le spalle. Esattamente. Mi suona come un accordo di tutto rispetto. Potremmo quasi seppellire la scia di guerra. Sai dove te la seppellisco la scia... Oh, ecco il bici. Oh, ecco il bici. Ah, andremo qui tutto un cioso. Sbrigatevi! E mettete in moto le chiappe! Centro! Ricarico! Deve essersi tipo sovraccaricato! Non serve più salire sui detti. Perché ci mettete tanto? No, non dovete fare altro che ammazzare dei maledetti alieni! Vabbè, allora però vedi che... Oh! No, non riesco a farlo. Ok, ok, ora ho capito. Ecco perché prima... Ah, ok. Ora ho capito. Allora l'avevo fatto male prima. Perché i primi due run l'ho fatto, il terzo l'ho fatto male. Ok, ora ho capito. Perché devo arrivare a un certo livello di quota. Il terzo l'ho fatto carico di bottino. Ringraziatemi dopo averlo preso. In criste silenti della città i più fieri, come i vichini giacciono al tè. Beh, c'è da dire che è più difficile che... Sono tre teschi e tre stelle. Queste sono due teschi e due stelle. E poi c'era tre stelle però... Una stella e tre però, capito? No, teschi. Quindi quello che sto facendo io è il più difficile praticamente. Dobbiamo rifarlo. Ma non è facile lui, eh. Cioè, il fatto che riesco ogni tanto a far... Quale il disturbatore! Cobblebot ha qualche idea su come riutilizzare i Terminauti in combattimento. Non ho chiesto i dettagli più cruenti. Sarete voi a fare rapporto. Fx, questo è un test sul campo per migliorare le granate di Cobblebot. Vi copro le spalde. Esattamente. Mi suona come un accordo di tutto rispetto. Potremmo quasi seppellire la scia di guerra. Sai dove te la seppelliscono? Non ci credo. I pani si trovano dentro io. Vediamo qualche granata in azione. Beh, non è che le dita. Non le sento nemmeno, ma... Le sento. Tutto è aprito! No io li odio Io li odio Ma come faccio a battere quel bastardo Vaffanculo mi è scaduto il E lo so però vaffanculo Dai No io non lo sopporto più No vabbè questo è tosto Dobbiamo togliere di mezzo quei cosi Se non togliere di mezzo quelli No ma qua non posso fare boomer Cavolo boomer è pessimo No ma io non posso fare Devo usare per forza un altro Devo usare No ma io mo Ma tanto non lo posso fare Equipaggio sa cosa no Ok come si fa a ritornare indietro Niente Madonna come è morto male Una mezza idea di dar via le granate Con uno sconto speciale Prezzo bomba Vediamo quanto ci mettete a trovare questo bottinauta Via col tempo Ma non rompesca del tempo Perché giustamente dove ci troviamo adesso Sfrutta una sfera magica e voilà In città tutto Lei sa E basta non parlare più Moto Ragazzi è tosta Questo è un messaggio per la squadra Che Metropolis ha ribattezzato Suicide Squad Ecco il disturbatore Ah vedo delle esplosioni nel mio futuro Sento il sapore Zitto Voglio sentire Che dice cosa Non interessa che eravate O perché siete finiti Dalla parte sbagliata Della lista Non ha più importanza Vi è stata data Una grande occasione Dimostrare Il vostro valore Abbiamo visto chi siete veramente Ora tutta Metropolis O ciò che ne resta È con voi È È strano Che in una città senza più eroi Ci salvino i cosiddetti cattivi Ma forse è così Forse non possiamo sceglierci I nostri eroi Spero che potremmo guardarci indietro Un giorno E riflettere su questo Certo Allora Riproviamo No non è facile signori Non è facile Questa signora Non è facile per niente Questo E ho capito Però È tosta È tosta Sì 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 Ma che poi Il corpo a corpo Lo fa una chiavica Lui ha un corpo Corpo a corpo Che è una chiavica Mi dai la possibilità Che ne dici No cazzo il cecchinaggio del cavolo Guarda come mi ha fregato Ecco qua, 41 Ehi navi testi o bella prova Di merda Ehi navi testi o bella Ehi navi testi o bella prova Ehi navi testi o bella prova Ehi navi testi o bella prova No dove cazzo sta Ma dai, ma dai, ma dai, ma dai, ma dai, ma dai Allora vaffanculo Quanti cazzo c'è, quanti 18 su 24 18 su 24 18 su 24, signori È tosta Non ho mai avuto così tanta difficoltà Vabbè È livello difficile Lo ammetto È una delle misce più toste da fa Tu devi stare zitto Oh No veramente Lui ogni volta deve parlare Ma non può stare zitto Fino a un certo punto È inutile che ripete continuamente la stessa cosa Dopo che ci so già dentro Non so bene come dirlo Ecco il disturbatore Vedo delle esplosioni nel mio E sta zitto anche tu Di chi stai parlando? Per settimane è stata una vera eroina Ah è morta cosa E forse la forza più potente che Metropolis abbia mai visto È stata È stata uccisa da Da Superman Si è battuta Fino alla fine Per noi Contro vecchi amici e alleati L'ha fatto Per noi Non so cosa accadrà ora Superman e Batman Sono i superstiti della Justice League E sembra che nessuno Sia in grado Di opporre resistenza Metropolis Restate a casa O cercate un rifugio Wonder Woman è morta perché potessimo vivere Facciamo le onore Già Bene E per tutti i giorni che ancora ci restano Resisteremo Lois Lane Passo e chiudo Certo Bene Hai finito? Grazie Qui del Tentop A prossimo Passo e chiudo E spero di togliere sta missione Cavolo Ciao Io Oh Uno